Urduck è il mondo dei Micra. L'accesso non è consentito a chiunque. Nessun umano o sentinella ha messo piede nella loro dimensione. Puoi usare la fabbrica di Argent dei Micra a Necravole per passare attraverso il vuoto. Una volta lì non potrai andartene da solo. Vega creerà un portale d'uscita per te. Ok. Quindi porta Vega attraverso il vuoto con te su Urduck. Capito Mi sto separando dai sistemi della nave Elaboro Trasferimento a unità esterna completato Insomma, Vega è un po' come Jarvis Oh Vega non è più connesso alla tua nave Sarò io a configurarti il portale per Necravol Ok Pensi che non ti serva nient'altro Prima di incominciare il nostro viaggio su Urdat Non potrei tornare qui fino alla fine della missione Questa è la tua ultima possibilità di sbloccare oggetti e esplorare la fortezza Prima di dover portare a termine la tua missione Appena sei pronto per andare a configurare Oh no, solo una batteria e le rune 6 Ah, questa è Cos'è che fa? No, cos'è che fa questo? Si attiva due volte E questa cos'è? Ah No, vaffanculo lo scatola Dai, dammi questo Ma ecco Ma, a posto Andiamo Sono pronto Andiamo Necravol Ma siamo già alla fine? No Perché dovrebbe essere l'ultima missione? Non ho idea, raga Non ne ho veramente idea Questa non è una random L'altro del 2016 Vado Beh Prendiamo già un paio di munizioni Dai Tieni Bella lì Ah no Questa è un cosa Ah, c'era un'altra qua Boh Mangiati questo Stronza Non capisco cos'è Oh Cazzo Non capisco, raga Ok Porca puttana Ah, ok Ah, per andare qua Cosa c'è qua? Scusa Cazzo Questo Che palle Che cazzo Che cazzo Ma vaffanculo Ok Altri? No Ma era giusta La strada Ah, devo andare sotto Mi sa Di qua? Sì Ok Aspetta Armatura Oh merda Cazzo Cazzo Sacca Bello Oh che coglioni Questo Cazzo 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 Quei Gli umani Arrivano Dalla Terra In attesa Di essere Scelti Per il Processo Ah Io ero Uno di Quelli Oh madonna Perfetto Dove devo andare? Di qua? Ah no Di qua Ok Devo salire Di là Quindi Ci deve essere Un modo Ah Eh ma cosa ho aperto Scusa Ah Ok Ma porca puttana C'è il tempo Che cazzo Eh Alla Cam Ma Servono La terra E le sue Anime Il suo Mondo Sta morendo Il racconto Consente Alla sua Gente Di rifornirsi Di risorse E sopravvivere Se tu Salvi Il tuo Mondo Metti A rischio Il suo Ah Ok Più Avanti C'è Calibas Il giudice Cieco E lui Che decide Chi va Il processo Di estrazione Dell'anima Mentre il resto Viene gettato Nelle palute Del sangue Interessante Distrugge occhi Di Calibas Zero Su quattro Oh madonna E Eh Non gli faccio Niente Cioè Che non mi dicono Come si fa Eh Non gli faccio Niente Raga Oh madonna Sta sciogliendo Cazzo Cazzo Come cazzo Si fa Ah Ah ok Devo solo Continuare a Sparare Va bene Va bene Va bene Va bene Eh Sta zitto Fermo Interessante Cazzo Cazzo Madonna santa Uh, vita Porca vacca Ma di qua cosa c'è? Ah, manzioni Ah, è una trappola Ma vaffanculo Ok 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 Qua schiaccia tutto Merda Ok Uh, un altro Cinque Vediamo quale posso fare Questo Perché? Ah, perché non l'ho sbloccato Giustamente Qua Non ho trovato neanche uno Qua Sei Dove devo andare? Aggiornamento della mappa Ah Ah Ok. Perfetto. No, devono è potenziato. Perfetto. No, no, no. Dov'è? Sì, vabbè, raga. Dove lo questo, mo? Eccolo qua. Sì, vabbè. Cazzo. Porca puttana. Cristo. Ah no, ma qua era dove c'erano già andato. Ah, ho sbagliato. Devo rifare. Cazzo. 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 No Bene, non so cosa devo fare Diamo un'occhiata Ah, ho visto, ho visto Ah, vabbè Eh, ma da qua poi Non c'è niente Sto cercando di capire Non è che devo andare qua per forza, magari Ah, infatti Ok Ah, porca puttana Ce n'è un altro Di qua Eh, ci si arriva Qua No Che cazzo ha questo? No Non c'è un altro Cristo Ok Oh madonna Cos'è che mi blo- Non c'è Non c'è Eccolo Madonna ragazzi, questo no Cazzo E uno è andato Oh Ok Tu sarà la spada Ah cazzo Madonna santissima Ok Ok Va bene Vediamo se mi da il checkpoint Ah finita così la missione Va bene E vi saluto ragazzi allora Hihi